Due miliardi di consumatori a livello mondiale, una crescita esponenziale della domanda interna, con una crescita anche di transazioni di più 42% al sud e più 57% al nord. Sono questi i dati relativi all'e-commerce in Italia. Nel 2017 la domanda soddisfatta tramite il commercio digitale è cresciuta del 17%, con un cross-border, quindi il commercio esportato, del 19%. Aumenta anche la vendita dei prodotti rispetto a quella dei servizi, con più 52%. Di questi dati si è discusso alla Federico II di Napoli, nel corso del convegno Digitalization, e-commerce for export. A prendere parte alla discussione il sottosegretario, lo sviluppo economico, Michele Geraci. Noi siamo, diciamo la verità, siamo indietro rispetto a quello che succede in altri paesi del mondo, non solo l'Asia ma anche altri paesi europei. Dobbiamo avere un approccio integrato a digitalizzazione, sistemi di online pagamento e la logistica, in modo che le aziende possano attraverso la digitalizzazione far vedere i loro prodotti. Ma quali sono le strategie digitali e i piani operativi a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane? Lo spiega Pier Giorgio Borgoggelli, direttore generale dell'Agenzia ICE. Abbiamo scelto Napoli e l'evento di oggi per parlare di quello che l'Agenzia ICE Italian 3D si fa a supporto di questi giovani, per aiutarli a entrare nel mercato digitale, in particolare per progetti di internazionalizzazione, per aumentare il loro export su questi canali.